Il diabolico sarto milanese d'Angelo una ne fa e cento ne pensa. Guardate questo vestito, sembra normale, state fresche. È un vestito decappottabile, scomponibile e intercambiabile. Un ingegnoso sistema di chiusure lampo permette di applicare alla giacca i risvolti che sarti meno estrusi avrebbero cucito con i monotoni sistemi tradizionali. La soddisfazione del cliente è indescrivibile, solo le immagini possono sottolinearla. E non è finita. Con rapidissime operazioni si tolgono e si mettono le tasche. Il sarto d'Angelo sta studiando il sistema di eliminare con geniale accorgimento i risvolti dei pantaloni, i pantaloni stessi e infine la giacca. Dopodiché il cliente potrà andare da un altro sarto per farsi fare un vestito serio.